ciao cari follower benvenuti nel mio canale oggi condividerò un nuovo video per voi nuove immagini sono arrivate dai nostri giocatori di successo osje gokberg de mirci che tutti amano questa condivisione di osje gokberg de mirci che hanno condiviso insieme le immagini delle loro nuove case ha ricevuto una grande dichiarazione su instagram sui social media ieri i suoi follower hanno battuto il record di l'ichè alla foto della nuova casa del duo nuove immagini e gli ultimi post di osje gokberg de mirci per i loro fan saranno sempre sul mio canale per te potete ordinare e guardarci e sostenerci arrivederci restate sani felici e sereni grazie a tutti ciao 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 ciao